In leggero calo la curva dei positivi in città e in provincia nelle ultime 24 ore. Sono 351 i nuovi pazienti positivi riscontrati al Covid-19, tutti in isolamento domiciliare. 94 sono di Caltanissetta, 92 di Gela e gli altri distribuiti nei paesi della provincia. E intanto sono 1.446 i pazienti positivi a Caltanissetta e in totale sono 68 i ricoverati in malattie infettive e 6 i ricoverati in terapia intensiva. 5.199 il numero dei positivi in quarantena domiciliare. I numeri si abbassano leggermente ma c'è da tenere ancora l'attenzione alta. Si conta ancora un decesso e un paziente di Santa Caterina Villarmosa.